Tavoli di lavoro di diverse regioni che hanno aderito al progetto Parcovie con le quali abbiamo condiviso un protocollo d'intesa che ha portato alla realizzazione di un vero e proprio catalogo su come realizzare le Parcovie che è oggetto regione per regione della capacità di finanziamento e di realizzazione dell'opera ovvero ritracciare materialmente il cammino infrastrutturandolo ovviamente rendendolo fruibile senza disturbare il transito e l'attività delle greggi e dei pastori per arrivare dove? Per arrivare al riconoscimento materiale della transumanza quale patrimonio dell'UNESCO Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri rilancia l'idea della transumanza quale patrimonio materiale dell'UNESCO lo ha fatto incontrando la stampa nei giorni scorsi all'Aquila insieme ad Ambrogio Sparagna direttore artistico del Festival della Transumanza tra la transumanza che unisce L'evento è giunto alla terza edizione, si snoderà tra luglio e agosto con location allestite in 15 comuni dislocati in tutte le province abruzzesi. L'iniziativa è promossa e finanziata dal Consiglio regionale con l'obiettivo di riqualificare, recuperare e valorizzare le antiche vie della transumanza e dei suoi luoghi in chiave turistica e culturale. Voglio ricordare che da sempre è una regione che esprime e ha espresso vari contenuti è una regione per esempio che ha una canzone con la quale tutti gli abruzzesi si identificano questo è un valore importante, significa che da sempre il canto popolare in Abruzzo ha una necessità per le persone per cui abbiamo preso una varietà di espressività territoriale, di diverse aree appunto mettendo anche però ospiti importanti della scena nazionale ma anche ospiti internazionali in un ragionamento in cui non è soltanto la musica protagonista ma sono i luoghi dove questa musica viene realizzata perché come ho avuto modo di dire questa musica ha bisogno di contesti la musica popolare vive solo in ragione del contesto in cui questa si manifesta senza il contesto diventa un esercizio di retorica estetica che però non ha lo stesso valore, non ha la stessa radice